La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località. Servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati. STIP Spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP Spedizioni, le tue merci in mani sicure. STIP Spedizioni, le tue merci in mani sicure.